Avete bisogno di crediti? Il link in descrizione vi porterà a un 7x, un sito affidabile, veloce ed economico. Scegliete il vostro ammontare di crediti, 200.000, 300.000, cliccate su buy, andate ad inserire il codice coupon NMF per avere il 5% di sconto. Tutti qui i link in descrizione. Salve ragazzi bentornati, benvenuti sul canale di 9 malati di foot, benvenuti nella play, ieri vi dì più bovieri? Cosa? Bobovieri? Icon Moments con 91 di rating. Prima di iniziare questo video, vorrei lasciare un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale di quando la funziona è la campanellina. E qui in descrizione trovate i link ai nostri social, quali Facebook, Instagram, gruppo, Telegram e canale, Twitch. Per PSN Card italiane ad ottimo prezzo, enebo.com trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon. Qui in descrizione ragazzi, Bobovieri perché? Perché è un attaccante... Non da provare ovviamente per la VL, ma in una squadra per ridere, esotica, come direbbe Zano, fa la sua sporca figura. Se poi vogliamo fare un team forte, pensare di poterlo inserire, forse dovremmo cambiare il gioco, onestamente parlando. Questa è una carta che si usa per divertimento, per amor della carta, per amor di Bobovieri che ora sto facendo tutte quelle pubblicità come ben sappiamo. E quindi è così a parer mio. 3 di skill, vabbè, 4 ripeterebole interessanti, tiro, freddezza e controllo palla. Invece come contro? Resistenza, agilità ed equilibrio. Ma l'agilità non tanto, infatti quel 68 per me non è bruttissimo, nonostante comunque sia un giocatore alto, con un body type massiccio, ha una discreta agilità. Però l'equilibrio si sente nei contrasti e purtroppo va a influire sulla sua forza. Il coppo di testa in carta va benissimo, è fortissimo, ha come qualità forte di testa, però in game bisogna anche saperlo usare e sfruttare. Molto reattivo, dicevo, perché riesce a gestire, a reagire bene e correttamente alle varie situazioni. È freddo sotto porta, ed è una cosa che a me è piaciuta. Il giocatore che poi segna, perché ha finalizzazione, potenza tiro, magari non tanto dalla distanza con quello 87, però ogni tanto qualche chicca nei long shot ce la darà tranquillamente. Il walker è medio in difesa, medio in attacco, non mi piace tantissimo, però non ha problemi nel non andare in fuorigioco. Praticamente non va così tanto spesso in fuorigioco. Velocità è discreta, buona, 85, si sente, l'ho usato con il cacciatore che la metta a tiro e velocità. E di base è buona passabile, ma non è un fulmine. Il passaggio può andare più o meno bene, se lo mettiamo attaccante, secondo appunto già inizia ad essere una ciofeca di passaggio. Il suo unico ruolo è appunto l'attaccante. Non potete nemmeno metterlo, volete magari metterlo come cioci? No, 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 purtroppo no. Attaccante stagno, no, no, no. Punta, lui è una punta. È da solo, in coppia, non lo so, perché onestamente lui me lo vedo bene con un attaccante rapido, scattante e agile. Come alternativa vi posso dire un Del Piero, un Succher, 91, come indice di ridabilità da una 5, ovviamente 5. Come prezzo un 90, 95 mila crediti per lui, dipende dal momento in cui andiamo ad acquistare questa carta. Io l'ho acquistato 78k, ve lo posso dire, poi ho aumentato, non so perché, ma va bene. Bene. Come stile intesa, io l'ho provato appunto cacciatore, vi consiglio, volendo, se non gli mettete cacciatore, un motore può andare bene. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta è un 8 o meno. L'indeciso tra 7.5 e 8 o meno, ma gli do 8 o meno. Perché comunque, l'ho provato in WL, non è un giocatore che trascina la squadra, però fa discretamente bene il suo. In un periodo nel quale comunque ci sono un fottio di carte fortissime, lui non è il top, nemmeno nei top 50, volendo. Però se facciamo una squadra, magari una vecchia Serie A, o una squadra romantica dell'Italia, la vogliamo fare abbastanza base per ridere, lui lo possiamo mettere perché costa veramente poco per essere un Icon Moments. Ma ragazzi, ditemi voi cosa pensate di questa carta, di questa review. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, un condivisione, quindi vi spiego. Se vi ringrazio, vi ringrazio. Ciao, ciao. Ciao, ciao.